Dal 2008 Carpe Diem tramuta il tuo oro e il tuo argento in denaro contante. Con i prezzi più alti di Sicilia e Calabria. Perché sappiamo bene che il tuo oro, il tuo argento, Carpe Diem dà sempre massima valutazione per ciò che ti è più prezioso. Carpe Diem è il comprooro più vicino a te con i suoi quattro punti dislocati in tutta la città. Professionale e con la massima valutazione, Carpe Diem è denaro contante. Subito! Firmata la convenzione fra esercito italiano e comune di Messina, l'asilo Lupetto Vittorio sarà gestito da Messina Social City. Il monumento ai caduti della piazza Unione Europea scambiato per un vespasiano, inciviltà di alcuni cittadini. Si è conclusa la giornata di sensibilizzazione alla donazione del sangue, sala, gremita, palacultura. Benvenuti a questa edizione di Voce di Popolo, il telegiornale social di vocedipopolo.it. Iniziamo subito con la notizia di cronaca del giorno, del sequestro dei 12.000 m2 di discarica abusiva nella zona di Gravitelli, nella zona precisamente di San Corrado, che era in uso a due persone che sono state fermate e che sono vicine all'ex boss del Rione. Questo spiega il motivo per cui per tanto tempo questa discarica negli anni sia rimasta operativa, tanto da cambiarne completamente il paesaggio. I finanzieri del comando provinciale di Messina e del reparto operativo areonavale di Palermo nell'ambito di indagini coordinate dalla procura di Messina, hanno sequestrato preventivamente un'area di circa 12.000 m2 nel rione Gravitelli trasformata in discarica abusiva a cielo aperto nell'area di San Corrado. L'inchiesta condotta dagli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria e dai militari della stazione navale di Messina riguarda ditte società anche registrate come Ollus ma che non avevano alcuna finalità in termini di volontariato, che sarebbero riconducibili a Daniele Mancuso di 53 anni e a Giuseppe Mancuso di 32 anni, padre e figlio, che sarebbero contigui e parenti all'ex boss poi pentito Giorgio Mancuso che era riferimento dei clan per la zona del centro cittadino. Con alcuni complici che sono stati denunciati avrebbero illecitamente scaricato un'enorme quantità di rifiuti speciali costituita da materiali di risulta derivanti da attività ai dili di sbancamento in un'estesa area privata, priva di utilizzazione, cambiandone completamente il paesaggio. Ecco da qui il nome dell'operazione definita Montagna Fantasma. Gli accertamenti disposti dalla direzione distrettuale antimafia di Messina guidata da Maurizio De Lucia ed eseguiti dalla Guardia di Finanza hanno accertato che i due erano vicini ad ambienti mafiosi, circostanza che spiega perché pur trovandosi in una zona abitata la discarica non sia mai stata segnalata dalla cittadinanza. Secondo gli inquirenti l'omertà degli abitanti sarebbe infatti legata al timore di ritorsione visti i rapporti degli indagati con il boss del Rione, ora collaboratore di giustizia. Oggi l'esercito italiano era al comune di Messina e ha incontrato il sindaco Cateno De Luca, ha incontrato anche il vice sindaco Mondello per una firma importante. Messina come sapete ha pochi esili comunali ma da oggi ne ha uno in più grazie all'impegno dell'assessore Alessandra Calafiore del Dipartimento delle Politiche Sociali e del vice sindaco Mondello che sempre impegnato in questi aspetti ogni qualvolta si parla di strutture, vista anche la sua esperienza di ingegnere d'architetto e anche per la funzione vice sindaco. Vediamo nel servizio che cosa è accaduto oggi e che cosa significa per il comune di Messina e per messinesi il nuovo asilo che si chiama Lupetto Vittorio e che si trova all'interno della caserma Ainis e del quale vi facciamo vedere delle immagini anche se delle foto in anteprima. Firmata stamattina a Palazzo Zanca nella sala Falcone Borsellino la convenzione tra esercito italiano e comune di Messina che sancisce l'affidamento in gestione a Messina Social City dell'asilo per l'infanzia, recentemente costruito all'interno della caserma Ainis, sede del 24esimo reggimento artiglieria terrestre peloritani. La struttura che verrà inaugurata tra qualche giorno è stata costruita con materiali bio ed è all'avanguardia circa le caratteristiche necessarie per la realizzazione di asili per l'infanzia. L'asilo è stato tra l'altro decorato dagli studenti dell'Istituto d'Arte di Messina Basile. Ne potranno suffruire circa 10 bambini in lista di attesa nel Dipartimento politiche sociali. Altri 15 che lo frequenteranno saranno componenti di nuclei familiari appartenenti a componenti delle forze armate. Grande soddisfazione del sindaco Cateno De Luca e del vice sindaco Salvatore Mondello che erano presenti all'incontro e che hanno siglato la convenzione con il colonnello Luigi Lisciandro, vice comandante della brigata meccanizzata a Osta. Anche l'esercito e la brigata a Osta in particolare nella città di Messina ha il piacere di con la collaborazione del Comune di dare avvio a questo progetto che già la Forza Armata ha attivato in altre città d'Italia a un asilo che si trova all'interno del quinto reggimento Fanteria Osta e che vedrà la possibilità di aderire all'interno di questo asilo sia figli di personale delle forze armate sia figli messinesi e quindi utilizzeranno una bella struttura realizzata secondo nuovi criteri e che consentirà al personale militare e quindi civile di avere una struttura in più nella città di Messina. Sì, è una bella iniziativa, una realtà che abbiamo sposato immediatamente anche perché si tratta di una struttura avenieristica con le dotazioni all'avanguardia e quindi consente di avere un altro punto di riferimento per la città. Quindi per noi è una conquista importante e fa parte di un percorso che abbiamo tracciato. Protocollo d'intesa stamattina, comunque la brigata a Osta è qui al Comune e si parla di un asilo. Sì, è un lavoro iniziato un po' di tempo fa in perfetta sinergia insieme a tante altre attività che stiamo portando avanti con l'esercito italiano e questo mi avviso è un fiorallocchiello soprattutto per l'esercito che ha realizzato un asilo che dal punto di vista progettuale non ha nulla da invidiare agli asili esterni agli spazi militari. Un asilo realizzato con tutti i grismi della biarchitettura, eccellente in tutte le sue componenti e vorrei, mi piace ricordare, che è stato realizzato, progettato interamente dalle forze armate. Questo, come dire, è un grande onore per l'Italia che ha delle forze armate professionalmente molto elevate. In merito alla sinergia del Comune, il Comune da subito ha attivato tutte le sinergie con le presenze che sono sul territorio. È inevitabile non ragionare con chi sta sul territorio e soprattutto è inevitabile non ragionare con chi ha delle iniziative così pregnanti. L'asilo prevede la compresenza di ragazzi, figli di dipendenti ovviamente militari e anche di cittadini messinesi. Sarà dato in affidamento alla Messina Social City che si occupa di asilinito e va a mettere in campo una delle attività necessarie all'interno del Comune, quindi rafforzare la presenza di asilinito. Se ne usufruirà quindi a tariffa comunale. Sì, sì, si ragionerà secondo quelle che poi sono i secondi canoni e le gradatorie comunali. Sì, questo è un asilo che noi abbiamo rispetto al quale ci siamo prodigati molto anche perché strutturalmente è all'avanguardia nel territorio, non ha uguali proprio secondo me nel meridione. Per i materiali. Sì, 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 proprio per come è stato realizzato, per come è stato anche organizzato all'interno, quindi questo veramente sarà un fiore all'occhiello per l'azienda. Quanti bambini riesce ad accogliere? Sì, l'asilo riuscirà ad accogliere 25 bambini che saranno distribuiti così, 10 che sono quelli che fanno riferimento al territorio comunale, quindi ci saranno quelli che vengono presi dalle liste d'attesa degli altri asili, quindi ci sono i posti riservati invece specificatamente alle forze armate. Come sapete nella scorsa settimana, precisamente domenica 24, si è verificata una frana nella strada di Portella, grande difficoltà per coloro i quali devono percorrerla, per raggiungerla la città e per congiungersi col viale Giostra, la strada che porta da Castanea, da Portella Castanea fino a San Michele, ci sono delle buone notizie, in sostanza l'assessore Minutoli ha precisato alla cittadinanza che sono in corso le operazioni di ripristino della strada e messe in sicurezza di tutta l'area ed il fronte della frana. I tempi per lo svolgimento dei lavori si protraranno presumibilmente fino alla giornata di domani, giovedì 28 novembre, allo scopo di consentire alla ditta incaricata dalla protezione civile, la realizzazione di tutti gli interventi riguardanti la rimozione dei pericoli dovuti alla presenza delle alberature instabili. Certo è che oltre che metterla in sicurezza, mettere in sicurezza la zona, c'è un problema per quanto riguarda tutto il fronte franoso e che è particolarmente a ridosso della strada, quindi un problema che probabilmente si potrebbe di nuovo ripresentare. Quindi va certamente messa in sicurezza e vanno compiuti degli interventi importanti per fare in modo che tutto ciò non accada di nuovo, anche perché domenica 24 non c'erano auto che passavano di lì qualche mese fa, quando ci fu la prima delle frane, anche in quel caso grazie a Dio non ci furono né vittime né feriti, però purtroppo, ripeto, il fronte franoso è veramente a ridosso della strada, una piccola strada che però ha una grande importanza di collegamento. Grazie comunque all'assessore Minutoli e al suo impegno e al fatto che da domani questa strada si riaprirà. Sabato 30 a Palazzo Zanca si terrà il convegno, la violenza di genere alla ricerca di una cultura dei diritti della difesa. Oggi l'assessore Calafiore, che l'abbiamo veramente particolarmente impegnata in questo TG, come vedrete, è molto presente e ha presentato l'evento insieme ad altre personalità dei Lions e della FIDAPA. Sì, è un'iniziativa fortemente voluta e sposata dal mio assessorato e rientra anche in un ambito di iniziative che abbiamo già condiviso con il club Lions Tirrenum e con la FIDAPA. Tra l'altro questa è stata una settimana molto importante. lunedì è stata presentata in prefettura la carta dei servizi e viene da un percorso di un anno che è stato fatto insieme a tanti enti. Noi siamo molto soddisfatti perché siamo approdati a risultati importanti con l'attivazione di borse lavoro e tirocini formativi per donne vittime di violenza e di un pronto soccorso sociale che sarà realizzato all'interno delle nostre strutture comunali proprio per dare una disponibilità maggiore alle persone che possono vittime di violenza. A Piazza Unione Europea vi è il monumento ai caduti alla Grande Guerra, il monumento al quale si consegna la corona da loro ogni anno da parte delle forze armate in occasione proprio della ricorrenza e il monumento agli eroi che combatterono quella guerra, ma comunque a tutte le guerre che alla fine hanno come obiettivo quello di ripristinare la pace. ma purtroppo le condizioni in cui alcuni cittadini, fra virgolette, non li chiamerei così, tengono ed usano questo monumento, soprattutto alle spalle, le condizioni in cui l'abbiamo trovato sono veramente vergognose. L'abbiamo definito, scusate, la ripeto questa parola, la risentirete nel servizio, un cacatoio. Quindi adesso ve lo mostriamo. Il monumento ai caduti della Grande Guerra di Piazza Unione Europea non ha mai davvero avuto pace. Negli ultimi anni zona di ritrovo e stazionamento notturno di giovani e luogo di scambio, anche di stupefacenti di ogni genere, oggi vero e proprio cacatoio ed altro. Alle spalle della statua sul basamento, infatti ben celati dalle telecamere di sorveglianza del Palazzo Comunale, cittadini che non meritano di essere definiti tali usano ed abusano le scale ed il marmo del monumento commemorativo per i propri bisogni. Marmi imbrattati, scritte da anche vasta area ricoperta di vernice bianca, una situazione insostenibile che deve essere affrontata e risolta. Non basta pertanto pulire, ma attenzionare questa struttura simbolica e punire coloro che hanno scambiato un monumento agli eroi della patria per un Vespasiano all'aperto. Abbiamo parlato in queste settimane di sbarchi, come sapete a Lampedusa si svolgono senza sosta con barchini, con mezzi di fortuna, con qualsiasi modo per sia possibile raggiungere la riva di Lampedusa. Purtroppo molto spesso, come sappiamo, avvengono dei naufraggi, naufraggi sempre con una statistica impietosa all'altezza dell'Isola dei Conigli. Il mare adesso, stante il maltempo, è sempre abbastanza agitato. Vi mostriamo un video, non solo per documentare la fatica per raggiungere la riva e comunque le situazioni che si determinano in un naufragio, ma soprattutto per farvi sentire ed ascoltare le urla dei bambini in mare che vengono salvati dalla Guardia Costiera. È un video diffuso da ansia dalla Guardia Costiera che abbiamo veramente il piacere di mostrarvi, anche se a qualcuno potrà destare un attimo di sofferenza come la destra a noi, ma molti bambini sono stati salvati così dal coraggio della Guardia Costiera. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì.